sì allora ci sono situazioni un po diverse ma non è male neanche per fare i video non è così vedi come è vero stabile? no no è stabile sì questo è un sfondo bello rosato la cosa la deriva che si distrattava eh cosa dici? bellissimo e io guarda che non è che il mio pilota eccezionale un pilota normalissimo però già così non è per niente difficile no no c'è tutto il controllo assoluto poi ti chiedo ecco se mi fai la cortesia di darmi col video lì se puoi certo questo puoi farlo? certo ci mancherebbe vai perry ok bellissimo grazie a tutti